Dal primo luglio prossimo l'ambulatorio di ortopedia dell'ospedale Sambiasi di Nardò sarà aperto solo un giorno alla settimana, lasciando i 32.000 residenti più i 15.000 di Galatone, che dista solo 4 chilometri, sprovvisti di servizi sanitari di alto livello. A denunciarlo il movimento cittadino Difendiamo il nostro territorio, che da anni si batte contro un piano di riordino definito di Senato, le cui scelte non avrebbero tenuto conto né della demografia né della geografia di un'area che con i suoi 25 chilometri di costa vede triplicare le presenze nel periodo estivo, lasciando come presidio più vicino l'ospedale di Copertino, considerato doppione del Vito Fassi di Lecce, che dista soli 7 chilometri linea d'aria. A disporre la chiusura una delibera della direzione generale dell'ASL su richiesta del primario di ortopedia di Copertino, per necessità di personale. Un ospedale, sottolinea il presidente del movimento cittadino, quello di Copertino, sprovvisto del certificato antincendio e delle relative agibilità, come quasi tutti quelli della provincia, motivo per il quale due mesi fa è stata depositata l'ultima di una serie di denunce sottoscritta da 300 firmatari. Nel 2011 i vigili del fuoco, a seguito di un sopralluogo, rilevarono mancanze gravissime, dando all'ASL 45 giorni di tempo per ottemperarle, ma per tutta risposta furono spesi migliaia di euro per un nuovo pronto soccorso, sprovvisto e sostesso di agibilità. Non si è provveduto a portare qui nessun servizio altamente specialistico, tant'è vero che noi qui ci ritroviamo gli stessi servizi ambulatoriali che già avevamo in un altro edificio. La cittadinanza è stufa.